Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò i miei ultimi acquisti del 2021. Questo video l'ho strutturato come video dei miei regali di Natale. Allora, devo dire che nel video, prima di lasciarvi al video, vi dico una cosa, vi dico che c'è una sola cosa di makeup e tutto il resto è beauty. Allora, io adesso vi lascio al video e noi ci vediamo dopo. Allora, io adesso vi lascio al video. Allora, io adesso vi lascio al video. Allora, io adesso vi lascio al video. Ciao, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e ditemi anche se vi piace questa modalità che sto sperimentando di fare video. E quindi spero che appunto questo video vi sia piaciuto e se avete domande fatemele qui sotto, richieste fatemeli qui sotto. E invece se volete restare aggiornati sui video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se volete, se volete invece seguirmi al di fuori di YouTube, potete seguirmi attraverso i link che trovate qui sotto, sulla pagina Facebook, Instagram e blog. Per questo era tutto, io vi saluto e non ci vediamo in prossimo video. Ciao ciao!